Buongiorno e bentornati a Bookstore, gli ospiti di questa nuova puntata. Filippo Focardi, il cattivo tedesco ed il bravo italiano, la rimozione delle colpe nella seconda guerra mondiale per la terza. Angela Camuso, la preda, le confessioni di una vittima, storia vera del più grande scandalo della chiesa tra fede e omertà per Rx di Castelvecchi. E poi Nicola Lecca con la piramide del caffè, un romanzo per Mondadori. Buongiorno e benvenuti. Cominciamo con Filippo Focardi, già dal titolo capiamo di che cosa stiamo parlando. Il cattivo tedesco e il bravo italiano sono dei cliché che ci portiamo presso dalla seconda guerra mondiale. E non a caso lei scrive in questo saggio perché parla nel sottotitolo di rimozione delle colpe. Cioè questi due cliché creati, secondo lei, già durante la guerra servivano appunto a allontanare dall'Italia, dagli italiani e dai soldati italiani, dai vertici diciamo dello Stato, quelle che sono state invece delle colpe storiche. Però chiariamo una cosa, non è che gli italiani e i tedeschi erano uguali. No, assolutamente. Io con il libro non intendo ribaltare il cliché, cioè parlare di italiani come cattivi italiani, né tantomeno descrivere i tedeschi come bravi ragazzi. Scrivo però, analizzo il fatto che lo stereotipo del cattivo tedesco, che aveva delle solidissime basi di verità per tutti i crimini commessi dalla Germania, ha costituito un comodissimo alibi per noi italiani che avevamo combattuto per tre anni a fianco dei tedeschi, per non fare conti anche con la nostra parte di responsabilità, certo non comparabile con quella degli ex Camerati tedeschi. Però l'Italia di Mussolini e del Re aveva combattuto per tre anni, dal 40 al 43, a fianco dei tedeschi, aveva svolto una sua missione di conquista nei Balcani, in Grecia, in Jugoslavia, aveva partecipato alla guerra d'aggressione contro l'Unione Sovietica e in tutti questi contesti, specie nei Balcani, gli italiani avevano commesso dei gravi crimini di guerra, rappresaglie contro anche la popolazione civile, deportazione di persone in campi di concentramento. Non si sono macchiati gli italiani di crimini di massa di tipo genocidiario, come i tedeschi, quindi mi riferisco a crimini, lo stermino agli ebrei, o anche quello dei Rom, però appunto sono stati commessi anche da parte nostra e non solo da parte delle camicie nere, ma anche dall'esercito italiano, dei gravi crimini di guerra contro i partigiani, i civili, i greci, i jugoslavi, ma anche in Russia qualcosa è stato fatto. Perché anche questo è un mito che, insomma, alla fine le colpe erano limitate al fascismo, o anche al solo Mussolini e alle camicie nere per quanto riguarda gli episodi più sanguinosi della guerra. Sì, sì, anche questo è stato utilizzato per ridimensionare le nostre responsabilità. Da un lato scaricando le colpe sui nazisti, sull'ex alleato, o dall'altro invece imputandole solo al Duce e alle poche camicie nere più forsennate che appunto avrebbero commesso, e in molti casi hanno anche commesso, non è che sia inventato. Però non erano stati soli. Poi vedremo perché, appunto, come nasce e chi anche ha aiutato a portare avanti, perché insomma la storiografia, diciamo, forse negli ultimi anni sta cominciando a concentrarsi su questo aspetto, diciamo, meno nobile e più, come dire, questa è come polvere sotto il tappeto, si preferisce lasciar lì perché tutto sommato è meglio così. E' un po', come dire, facendo un'operazione di parallelismo, la storia che racconta Angela Camuso in questo suo racconto, questa storia che è una storia vera, è il racconto della pedofilia nella Chiesa, fatta però incentrata su una storia singola, raccontata da una parte attraverso uno dei protagonisti, una delle vittime di questo prete che si chiama Don Ruggero Conti, che è stato condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi appunto per aver compiuto atti di violenza su alcuni bambini, adolescenti, che erano nella, diciamo, che erano suoi parrocchiani, tra l'altro tra un mese c'è il processo d'appello, però è una storia simbolica di un fenomeno che anche qui nella Chiesa è stato per tanto tempo rimosso. Sì, La Preda è un libro che cerca di afferrare le radici del fenomeno per far capire come si può prevenire da parte delle famiglie, senz'altro, e come si può intervenire nel momento in cui certe nefandezze vengono alla luce. Per questo io ho scelto di raccontare su due piani narrativi diversi questa storia, che è una storia emblematica, se non altro perché il processo che ha coinvolto Don Ruggero Conti è un processo che ha anche lambito il vescovo delle sacerdote in questione, che è stato anche indagato per concorso di violenza sessuale, anche se poi è prosciolto perché comunque la legislazione italiana non prevede che un vescovo sia un pubblico ufficiale, quindi non obbliga di fatto il vescovo a denunciare... Parliamo comunque di una parrocchia, di un vescovo di un'area di Roma. Sì, sì, il vescovo di una diocesi di Roma, attualmente in carica, il quale fu informato dai parrocchiani e anche da una vittima in persona, ricevette anche una lettera, ma nonostante questo non approfondì abbastanza quanto avrebbe dovuto fare per portare avanti l'indagine interna. Si fermò di fronte alla paura del ragazzo di essere messo alla gogna, perché poi questo è anche un problema, è un tema fondamentale. L'omertà non è costruita soltanto dalla complicità, voglio dire, del clero, della comunità cattolica. Poi ci sono anche tanti tipi di complicità, c'è una complicità inconsapevole se si vuole, c'è invece un comportamento più grave da parte di chi ha delle responsabilità, ma l'omertà è costruita anche dalla paura delle famiglie, prima dalla paura dei ragazzi, perché noi ci troviamo di fronte a ragazzi che hanno 14 anni, che stanno scoprendo il sesso, che provengono da famiglie molto cattoliche, quindi ragazzi che vivono la sessualità, soprattutto se espressa in quella maniera improvvisa, e sicuramente brutta come una cosa assolutamente peccaminosa, quindi si sentono in colpa loro di fronte al prete, che invece è il loro corruttore, non dicono nulla a casa perché non vogliono deludere i genitori cattolici, hanno paura, hanno vergogna di una punizione, di essere insultati, eccetera, anche perché voi immaginatevi, comunque si tratta in questo caso tutti i ragazzi maschi, tutti i maschietti che si trovano comunque con il terrore, che il proprio padre venga a sapere cosa è il genere, e quindi così si costruisce poi il muro dell'omertà, fondato da... E' sempre molto difficile poi che queste vicende emergano, e poi abbiano anche un seguito giudiziario, certo, e poi c'è la fede, infatti nel sottotitolo lo dico, storia vera del più grande scandalo della Chiesa tra fede e omertà, perché poi c'è la componente della fede, cioè il nome della fede, questo sacerdote di fatto viene permesso di violentare i ragazzini per oltre 20 anni, perché all'interno della comunità cattolica comunque i primi segnali di questo atteggiamento non vengono colti, anche perché il ruolo che rivestiva Adoro Gero Conti era appunto il ruolo del padre, quindi del rappresentante di Cristo sulla terra, e quindi nessuno osava credere... E mettere in discussione quel ruolo. ...che un prete, che era comunque un prete molto valido, generoso, e assolutamente stimato per moltissimi aspetti, potesse poi nascondere questo lato oscuro. Veniamo invece a conoscere la piramide del caffè di Nicola Lecca. Nicola Lecca, anche se è un giovane scrittore, è già piuttosto affermato, vende anche In Giro per il Mondo, e In Giro per il Mondo lui ama collocarsi, lui si considera un nomade, perché comunque negli ultimi anni ha cambiato svariate nazioni, e un po' questo è contenuto in questa storia, che è raccontata in questo romanzo, parliamo di un orfano ungherese, che è vissuto appunto in orfanotrofio, va a Londra, che è il suo grande sogno, e comincia a lavorare per una multinazionale, non è anche multinazionale, diciamo una catena di caffè, si chiama Proper Coffee, e apparentemente realizza il sogno della sua vita, ma l'apparenza in questo caso è molto ingannevole. Beh, l'apparenza è ingannevole perché in questo nuovo mondo della standardizzazione il manuale del caffè che spiega come ci si deve comportare all'interno del caffè, come si deve fare il cappuccino, come bisogna comportarsi coi clienti, spiega tutto molto per bene, e tutto procede alla meglio fino a che questo ragazzino che si chiama Imi inizia a fare il cappuccino un po' più buono degli altri, diventa un cappuccino veramente buonissimo, e questo va contro i dettami del manuale, perché il manuale dice che il caffè in tutte le caffetterie della Proper Coffee deve essere uguale, allora lui viene chiamato dai suoi dirigenti e viene sgridato, perché fare il cappuccino è troppo buono, tu devi riprendere a farlo come scritto nel manuale. Allora, questo io sono sicuro che accade anche a molti di noi, perché oggi essere più bravi in fabbrica, al lavoro, nella vita, è un problema qualche volta, è più comodo essere completamente uguali agli altri. Chiaramente lo sguardo dell'orfano che arriva dal piccolo paese ungherese, che si trova catapultato nella metropoli e che si incanta per questa nuova vita, è di grande ammirazione per tutte queste regole, per questo ordine, che sotto certi punti di vista affascina. Certo però che poi ci si dovrà scontrare, perché questo manuale non spiega solo come fare il cappuccino, ma mette anche enormi limitazioni alla libertà personale. Quindi una standardizzazione che viene teorizzata in questo manuale e poi che però lascia dei buchi scoperti in cui poi l'inventiva di questo ragazzino si infilerà, perché poi magari faranno, ad un certo punto succedono delle cose che però non sono previste dal manuale, comporteranno un atteggiamento diverso, perché poi quando tutto è previsto appunto l'eccezione diventa spaventa. A Napoli l'eccezione è la regola, gli inglesi invece ne sono terrorizzati, perché gli inglesi appunto fanno tutti i manuali dove scrivono se succede questo si fa questo, se succede questo si fa questo, però la D non c'è, allora bisogna improvvisare, e questa è l'arte del napoletano, dell'italiano, e noi improvvisiamo benissimo. Quindi questo è un ungherese un po' napoletano, questo ragazzino. Con tutto il bene che l'aggettivo comporta, è una persona che sa improvvisare, è una persona capace di relazionarsi al problema quando accade in maniera creativa, in maniera brillante, è di essere un essere umano, di essere una persona completa che si sa rapportare al destino, che si sa rapportare agli altri in maniera originale, unica, perché noi siamo tutti unici. È terribile questa idea di volerci rendere tutti uguali, io la trovo imbarazzante. Vorrei dire che sono molto onorato di essere qui oggi con questi ospiti, perché mi interessa sempre approfondire la storia, la cronaca, la verità. Secondo Madonna, Wallis Simpson è una vittima, quindi a sentire lei, a sentire qualcun altro è una nazista. Allora, è bellissimo che io, che ho fatto un libro di fantasia che serve per divagare, per svagare, per entrare in un mondo dove si dimentica l'ultimo TG, insomma, sia oggi ospite, con le personalità... Dopo che si è visto. Essere qui ad approfondire argomenti molto seri, anzi, mi complimento con la redazione che ha permesso questo connubio un po' insolito di questi tre titoli. Grazie per i complimenti raccolgo a noi di tutta la redazione. Ovviamente la piramide, perché anche qui nel manuale c'è una settura piramidale, per cui ci sono gli assistenti generali di cui appunto, come il protagonista del romanzo, alla base, poi via via, se uno fa carriera attenendosi alle regole del manuale rigorosamente, poi potrebbe anche arrivare ai vertici della piramide. E lui in maniera infantile dice mi ricorda un po' il comunismo, perché secondo il manuale siamo tutti uguali, però è anche un po' come nell'antico Egitto che c'è la piramide, il faraone in cima, eccetera. Però siccome si passa di livello, nell'Egitto non si poteva scalare la piramide, no? Era molto difficile. Dice, mi sembra un po' come i giochi per computer. Allora lui si appunta nel manuale a quello della proper coffee e un comunismo computerizzato di stampo faraonico. Non so se lo storico su Wally Simpson ha qualcosa da dire. Mi astendo. C'erano tutte e due le cose. Diciamo che non è passato tra nessuno dei personaggi storici più amati da molti punti di vista. Invece tornando appunto alla creazione di questi due, diciamo, cliché, ci sono stati molti anche scrittori che, come lei cita Benedetto Croce, per esempio, che hanno alimentato questo mito perché appunto serviva a una nazione che di fatto sconfitta nella guerra che però poi ha cambiato diciamo cavallo in corsa serviva per, come dire, per uscire meglio come immagine da questa disastrosa esperienza. direi che la mia tesi forte nel libro è che dietro alla creazione di questi due stereotipi ci fu allora proprio una fortissima esigenza politica legata alla politica estera. Cioè l'Italia era uscita dalla guerra firmando un armistizio in cui figurava nazione nemica sconfitta sottoposta a resa incondizionata. Eravamo nelle mani dei vincitori. Per cui c'era l'esigenza di valorizzare al massimo la guerra che l'Italia aveva cominciato a fare Badoglio e gli antifascisti dopo l'8 settembre contro i tedeschi perché gli alleati avevano anche promesso che avrebbero tenuto conto dello sforzo contro il comune nemico tedesco una volta arrivati al tavolo della pace. E poi certo figure di primo piano come Croce ebbero un ruolo fondamentale Croce era l'intellettuale principale in Italia conosciuto all'estero aveva accesso ai principali giornali inglesi e americani e proprio in questa sua veste si prodigò per sottolineare i meriti dell'Italia antifascista sottolineando ad esempio che gli italiani non erano stati fascisti e qui entriamo poi in un campo minato più complicato più complicato è in questo contesto che Croce sviluppò la sua idea del fascismo parentesi cioè il fascismo come un regime che non aveva niente a che fare con la storia italiana che è una storia segnata dalle libertà comunali dal rinascimento dal risorgimento e che quindi è tutto questo finalizzato a chiedere agli alleati di un trattamento benevolo dell'Italia e anche qui è interessante perché Croce sviluppa l'idea del fascismo parentesi contrapponendola non a caso invece all'idea che il nazismo in Germania avesse delle radici profondissime e gioca molto su questa contrapposizione è una teoria che è andata avanti per lungo tempo ha dominato la storiografia italiana per lungo tempo certamente anche in qualche modo anche Renzo De Felice sostiene qualcosa del genere contrapponendo i due regimi e secondo me questa attitudine appunto collocabile già in quegli anni e per questa motivazione politica che devo dire era sacrosanta cioè anche io mi fossi trovato a far parte della classe dirigente culturale o politica antifascista avrei cercato di fare lo stesso per ottenere appunto un trattamento positivo l'Italia sì aveva moltissime colpe è anche vero però che aveva fatto qualcosa per riscattarsi e in questo c'è una differenza anche dalla Germania che non si può non rilevare in qualche modo io volevo chiedere a Angela Camuso visto che siamo nella settimana in cui si è eletto il nuovo Papa e questo potrà portare anche dei cambiamenti nell'atteggiamento della Chiesa nei confronti della pedofilia che è stato diciamo un lei scrive non sono contro la Chiesa Cattolica non è il mio libro non è contro la Chiesa perché parliamo di una minoranza di casi però il problema c'è è scoppiato in tutta la sua virulenza tutto negli Stati Uniti in realtà insomma che questo non è un libro contro la Chiesa anzi ha scritto Giovanna Chirri che è una collega che è diventata famosissima perché è quella che ha fatto lo scoop la collega dell'Anza che ha fatto lo scoop mondiale sulle dimissioni del Papa la prima a dare notizia delle dimissioni per prima delle dimissioni Giovanna Chirri ha scritto questo è un libro che potrebbe far bene alla Chiesa nella recensione che mi ha fatto per l'Anza e l'ha detto lei e l'ha detto anche Monsignor Charles Scicluna che io sono andata a trovare a Malta e l'ho intervistato c'è un'intervista pubblicata sul Corriere.it un video molto interessante perché si parla della maniera con cui ormai il Benedetto XVI ha tentato di affrontare il problema di pedofilia e delle connessioni possibili tra le problematiche legate alla gestione di questa questione all'interno del Vaticano sono legate alle dimissioni Ratzinger ha comunque dato un messaggio molto chiaro durante il suo pontificato che era quello della linea della trasparenza e della severità nel condannare gli abusi e nel gestire appunto la questione degli abusi e di fatto ha nominato Scicluna a capo della commissione creata ad hoc per analizzare questo tipo di casi il punto è che Scicluna a fine anno scorso è stato trasferito a Malta su proposta del cardinal Bertone e di fatto è stato spostato un uomo che era la punta di diamante della lotta contro la pedofilia appunto dentro la chiesa quindi questa opera di traspenza è stata interrotta quindi ecco collegando questa circostanza a quello che è successo parallelamente dentro lo IOR per cui anche lì la linea tracciata da Benetto XVI quella della della trasparenza in questo caso nei confronti no delle leggi europee anti riciclaggio anche in quel caso c'è stato uno stop ecco queste cose messe in fila fanno hanno fatto pensare a molti miei colleghi vaticanisti assolutamente più documentati e più istruiti di me ma hanno fatto pensare anche per esempio allo stesso Scicluna che di fatto le dimissioni del Papa sono stato un atto di grande forza per scompaginare i vertici della chiesa in quanto solamente dimettendosi Benetto XVI avrebbe potuto far decadere tutte le persone di cui non si fidava pienamente il nuovo Papa adesso ecco siamo tutti voglio dire speranzosi che porti davvero insomma la parola di Cristo su questa terra ci dobbiamo fermare per un istante di nuovo bentornati a Bookstore di Nicola Lecca abbiamo detto all'inizio che è un po' un girovago che in questi ultimi anni è stato un po' in giro per il mondo e ha condensato in questo libro ci sono molti personaggi alla fine quelli più positivi sono proprio gli stranieri cioè si crea questa Londra molto molto formale molto legata alle apparenze e poi questi stranieri che si trovano lì a lavorare a fare varie mansioni sono quelli che un po' più rappresentano come dire un'umanità vera e quella ha l'esperienza proprio personale dello scrittore ma Londra a differenza di Parigi che non ha mai integrato le colonie che ha sempre tenuto gli algerini in disparte facendo un distacco veramente spiacevole per cui non vedrai mai un algerino direttore di banca a Parigi è difficile credo che Londra sia riuscita in questa scommessa ha integrato tutti molto molto bene e poi loro sono molto civili molto cordiali la regina Elisabetta ha firmato da poco questa nuova legge antidiscriminazione e poi insomma è un popolo che quando ti urtano loro in metropolitana ti chiedono scusa pure dopo che ti hanno urtato se gli urti tutti chiedono scusa lo stesso è un popolo meraviglioso da quel punto di vista e quindi funziona a Londra il miracolo funziona per quanto riguarda il fatto di essere cosmopolita a Londra conta forse addirittura il doppio perché tu viaggi per tutto il mondo vivi in 7 8 10 città e poi arrivi a Londra e ti accorgi che è una non città perché è una città di tutti è una città dove vivono mille persone oggi essere qui a Roma per me è un'esperienza iper romana cioè romana è perché Roma è dei romani sono qui per essere nella vostra trasmissione lo ricordo anche ai telespettatori che questa sera alle 19 al Parco della Musica da Ciamaraini presenterà il libro quindi siete tutti invitati ma questo è la vita il festival della letteratura il festival della letteratura non è una cosa solo per Nicola Lecche no no ci mancherebbe però il mio evento è quello là alle 19 quindi lo segnalo per chi volesse partecipare ma si sta meglio fuori o si sta meglio in Italia? beh quando a gennaio io posso andare a Cagliari con 24 gradi a vedere il mare sulle terrazze di Calamosca cavolo a Reykjavik è bellissimo però a gennaio c'è meno 18 devo mettere la calzamaglia come in Nura è una cosa non si può guardare ma devo dire che ogni città ha il suo fascino credo che sia bello nella vita vivere molte vite e fare l'esperimento insomma capire tutto ciò che ogni città può offrire arricchirsene e quindi poi a un certo punto uno si fermerà non si può vivere come una trottola però essere completo e pieno del mondo sentirti cittadino del mondo credo ti renda capace di scrivere un libro che possa emozionare tante persone forse per questo il mio libro è tradotto in 15 paesi europei forse perché il mio parlare non è da scrittore non è un modo di parlare a un italiano da un italiano ma è un modo di un europeo di parlare a un altro europeo abbiamo detto che questo protagonista è cresciuto in un orfanotrofio ungherese è un'esperienza che lei ha fatto proprio per capire lei ha trovato che un orfanotrofio che sembra un luogo triste proprio per definizione invece c'è molta felicità è andato lì per cercare di capire anche il segreto di questa felicità io sono capitato per caso perché scrivevo un reportage da lungheri anzi diversi reportage e ho visitato questo orfanotrofio quindi uno si aspettano bambini tristi che piangono malnutrizione e invece in questo orfanotrofio c'era una grande felicità la sera sono rientrato nel mio albergo e ho detto io rimango qui sinché non scopro il segreto di questa felicità perché la felicità serve a tutti noi allora sono rimasto 500 giorni nell'arco di 7 anni finché questo segreto della felicità l'ho capito e nel libro è raccontato non a caso sul sole 24 ore hanno scritto questo è un libro adatto alla crisi perché in un momento nero dove tutti si lamentano che tutto va male questo libro ti insegna a gioire e a essere felice perché se possono essere felici questi che non hanno la madre non hanno il padre o sono figli di assassini o sono stati violentati dai genitori eccetera eccetera allora si può veramente essere felici noi tutti si può essere ottimisti se non altro direi proprio di sì però qui io torno a invece a quelli che sono stati gli orrori della guerra e a questi miti e a questi cliché che si sono stati tramandati abbiamo detto in senso come dire c'è stata una una narrazione voluta perché si doveva recuperare un'immagine e poi lei scrive è mancata una Norimberga italiana cioè noi purtroppo abbiamo avuto i nostri criminali di guerra addirittura lei dice circa 850 i presunti criminali di guerra italiani che però non sono stati mai processati non sono stati mai processati l'Italia li avrebbe dovuti consegnare ai paesi che gli richiedevano dalla Grecia alla Jugoslavia ma anche la Francia l'Albania eccetera non li ha mai consegnati aveva promesso di giudicarli in Italia presso tribunali italiani anche questo non è stato fatto solo pochi diciamo malcapitati finiti nelle mani di Jugoslavia o Greci alla fine dopo l'8 settembre sono stati processati alcuni hanno fatto anche una brutta fine sono stati fucilati per responsabilità vere o presunte perché non sempre i processi erano stati fatti con tutti i cliché ecco questo fatto la mancata punizione appunto i criminali di guerra italiani certamente avvalso al mantenimento del cliché del bravo italiano non ci siamo confrontati con l'aspetto dei nostri crimini non è detto però devo dire che una Norimberga italiana avrebbe per forza costretto gli italiani a fare conti ai propri crimini se prendiamo il Giappone il Giappone che sono di crimine commesse molti più degli italiani i giapponesi hanno subito dei processi il processo di Tokyo ma anche tutta un'altra serie numerosa di processi contro soldati giapponesi però nella memoria pubblica nazionale giapponese anche lì ha stentato moltissimo a riconoscere il ruolo di aggressore del Giappone c'è un'autodefinizione di se stessi come vittime delle bombe atomiche Hiroshima e Nagasaki che è un aspetto che questo non è inventato ovviamente esiste è un po' il discorso del cliché del bravo italiano non è che sia tutto inventato poggia su una base di verità gli italiani in molte occasioni durante la guerra hanno aiutato gli ebrei si sono comportati sicuramente molto meglio in generale dell'alleato tedesco però tutto questo poi è servito a rimuovere l'altra faccia della medaglia le nostre responsabilità ovviamente è un mito autoassolutorio assolutamente autogratificante in cui tutti si riconoscono di ogni orientamento culturale politico basti pensare anche a un film come Mediterraneo grande successo di qualche anno fa che ripropone in termini un po' attualizzati italiani che non avevano voglia di fare la guerra non erano stati percepiti come occupanti allora grazie a Filippo Fogardi ricordiamo il cattivo tedesco il bravo italiano la rimozione delle colpe nella seconda guerra mondiale grazie e saluto Angela Camuso la preda le confessioni di una vittima storia vera del più grande scandalo della chiesa tra fede e omertà grazie e ancora Nicola Lecca con la piramide del caffè vi ricordiamo che in questo fine settimana potete acquistare le uova di Pasqua dell'AE l'associazione italiana contro le leucemie e quindi fare quest'opera per la ricerca noi ci vediamo sabato prossimo naturalmente vi lasciamo i consigli per la lettura buona giornata e buon fine settimana se dovesse consigliare un unico libro fra le sue ultime letture quale sceglierebbe e perché consiglierei il libro di Melania Mazzucco vita perché è un bellissimo libro è pieno di poesia e di sentimento e racconta una storia avvincente e piena di leggenda e di storia fra le letture di sempre La montagna incantata di Thomas Mann perché è il più grande affresco umano che abbiamo letto ha insegnato tante cose e ancora me lo ricordo a distanza di tanti anni e continuo a leggerlo a scadenza ogni cinque anni tra gli ultimi libri letti consiglierei Diario d'inverno di Paul Oster perché l'ho trovato poetico musicale delicato e poi un'occasione per conoscere la vita di un grande scrittore quindi se si sono amati i suoi libri è un regalo che lui ha fatto a tutti quelli che hanno amato le sue storie perché c'è molto questa è la sua storia